guarda che il video per youtube sai saluta ciao siamo partiti adesso ci aspettano 4 ore di viaggio giusto? mamma vuoi salutare? vuoi salutare? ciao 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 siamo in autogrill abbiamo appena mangiato e nada ma guardate quanto è carino quanto sono carini ne voglio uno ciao 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 Ciao, siamo in hotel e fa un po' partiamo per andare al concerto a San Siro, io sono troppo emozionata perché Rihanna è la mia cantante preferita da 2007, cioè io era da troppo tempo che sognavo questo momento e finalmente si realizza il mio sogno, io sono troppo felice, mi sta emozionando, e niente, noi ci vediamo dopo, adesso mi ribalto, dammi una mano, così se cadiamo cadiamo tutti i due, Grazie, ma che carino che è, mamma mia, adesso stiamo andando, infatti vedranno tutti quanto sei carino e dolce con me, no, lo scherzavo o lo scherzavo? Sì, so che scherzavo E quindi noi andiamo, ciao, carichi carichi per questo concerto Mamma, saluta, cosa ne pensi a riguardo del concerto? Sei emozionata di vedere Rihanna? Madonna, tantissimo Allora ragazzi, stiamo andando verso San Siro, il Meazza, e speriamo di... di cosa? E divertirci oggi, no? Siamo qua in un parco, a Milano Ti scuro non siamo a Monta, ma siamo a Milano Ma cosa c'entra? Scusa Non so, sono andando a caso Ok Dai Leila, di qualcosa Ciao Di qualcosa Ciao, ho già detto io Di qualcosa No, le mie scarpe bianche Guarda, scusa Qua c'è... no, eh Sì, è molto bene Grazie a tutti. Siamo entrati? Siamo arrivati e adesso aspettiamo Rianna. È qua, sta arrivando. Stiamo aspettando. Siamo arrivati. 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 Sì. Siamo arrivati. Siamo arrivati.